Dicevamo Mosè, allora, Mosè la mattina si sveglia con quel pensiero, disse io devo sistemare questo fatto delle tavole, perché lo dico sempre... E non lo faccio mai. E non lo faccio mai. Allora che fece? Perché Mosè era uno ingrippato, cioè quando Mosè pensava una cosa veramente faceva, infatti tu quando in famiglia gli chiedono Mosè, Mosè, Mosè ingrippato, e vedi come risolve questa situazione, pigliai tutto il tavolo, Mosè sali su questa montagna da solo, sali da solo su questa montagna, perché era un tipo costruttivo, era uno brillante questo Mosè, che fece? Mise le tavole là, e una volta in montagna, ta 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 ta! Si imprestano, si si, su, ah, cacci combinati, disse Mosè. E si mise accanto a queste tavole, in piedi ad aspettare. I dieci comandamenti, i dieci comandamenti, il primo comandamento fu... Gliate a pigliare due seggio. Buon appetito.